Ragazzi non potete capire Mamma mia Prendiamo tre patate e andiamo a sbucciarle Diana ha notato che usi il coltello per sbucciare le patate, come vai? Eh sì, io sono vecchio stampo, mi trovo meglio con il coltello E voi invece ragazzi vi trovate meglio col coltello o col pela patate? Scrivetecelo qui sotto Una volta sbucciate le taglio a spicchi e le metto in una pentola con acqua E adesso ci spostiamo ai fornelli perché dobbiamo far bollire queste patate Perfetto, ci siamo, le patate sono cotte e quindi adesso andiamo a scolarle Ora prendo 200 grammi di carote e le taglio a cubetti molto piccoli Ora facciamo la stessa cosa anche con una zucchina Ora prendo anche della cipolla e la taglio finemente Non ci serve una cipolla intera, soltanto un quarto è sufficiente Poi prendiamo una padella capiente All'interno ci mettiamo un po' d'olio d'oliva E tutte le nostre belle verdurine E ora ci spostiamo ai fornelli E quindi cuociamo le nostre verdure Sino quando saranno ben morbide E anche le nostre verdurine sono pronte Mamma mia che profumo ragazzi Adesso le mettiamo da parte Ora riprendiamo le nostre patate e le mettiamo nella ciotola Ora schiaccio le patate grossolanamente con la forchetta Non dobbiamo ottenere una purea super super fine Insieme alle patate vado a mettere le verdure che abbiamo cotto prima Aggiungo anche un uovo Del pepe Del sale, mettiamo due pizzichi di sale Anche tre dai Due e mezzo E dell'origano Mescolo bene il tutto Qui invece ho del pangrattato di riso Che adesso dobbiamo aggiungere in questo composto Per renderlo un po' più lavorabile Siccome adesso è un po' troppo morbido Quindi aggiungo pochi cucchiai alla volta Cominciamo con due cucchiai E poi ci regoliamo man mano che mescoliamo Ecco qui il nostro composto è pronto Ho aggiunto sei cucchiai colmi di pangrattato di riso Quindi mi raccomando Controllate anche voi la consistenza E man mano che mescolate regolatevi in base a ciò che vedete Ora prelevo un po' di composto con un cucchiaio E vado a creare prima delle polpette In questo modo Poi schiaccio leggermente E le appoggio tutte su un piatto Quante belle cose ragazzi Adesso la parte bella Andremo a cuocerle Ma prima un altro passaggio dobbiamo fare Prendiamo ogni crocchetta E la passiamo nel pangrattato Ripetiamo non usiamo quello di riso Che è senza glutine ovviamente Esatto Bravissimo Le rimettiamo un attimo sul piatto E ragazzi guardate un po' Andremo a cuocerle nella freggetrice ad aria Quindi Preriscaldo A 200 gradi Ma prima di cuocerle Vado a mettere dell'olio Sulla superficie Con un pennello Così poi diventeranno ben croccanti E anche dorate La freggetrice è calda Quindi Apriamo il cistello E andiamo a inserire all'interno Le nostre crocchette Wow non vedo l'ora A chi lo dici? Chiudiamo Quindi le cuociamo a 200 gradi Per circa 15 minuti Ragazzi prima di andare a vedere Come sono venute Lasciate un mi piace a questo video E condividetelo Per noi è importantissimo E ci permette di continuare A condividere tutte queste bontà Con tutti voi Ah e seguiteci anche su Instagram Mi raccomando Ci chiamiamo Diana e Alessio Ragazzi Ha fatto bip Quindi Quindi apriamo Vediamo un po' Ragazzi Mamma mia No Diana Queste sono spettacolari Mamma mia No vabbè Prova ad aprirne una Diana Incredibile Mi sto bruciando Ragazzi ho una cuolina Questa è rigorosamente Con la maionese Fatta in casa Guardate che spettacolo È qualcosa di incredibile Troppo buone Wow Ciao